L'amante senza fissa dimora di Fruttero e Lucentini Quinta parte La meta successiva è una vecchia bottega nei pressi della lista di Spagna. Una meta divertente, o che tale sembrava prima della visita al ghetto. Si tratta di una bottega di abiti usati, nota da tempo a Mr. Silvera, e che una rapida indagine condotta dall'albergo ha rivelato essere tuttora in attività. Impensabile, inconcepibile è infatti che Mr. Silvera si presenti alla cena di stasera vestito a nuovo. Prima di ripiegare su un funesto smoking ancora rigido di fabbrica, su un tragico taxido di seriale impeccabilità, bisogna tentare la strada, per così dire, dell'antiquariato, sperare in un indumento che, senza avere un'aria troppo consunta, smessa, aliena, presenti tuttavia un minimo di passato, una patina storica degna di Mr. Silvera. Allegra incombenza, amabile gioco di arredamento corporale. Ma dopo la visita al ghetto l'atmosfera è cambiata. La voce di Mr. Silvera, mentre camminano verso la non lontana lista di Spagna, suona al suo stesso orecchio esageratamente animata, come quella di uno che voglia, a ogni costo, evitare il silenzio. E non solo gli vietavano di stampare i loro libri, ma di tanto in tanto glieli bruciavano pure, facevano grandi roghi di testi talmudici in piazza San Marco. Ma che orrore! La conversazione prosegue così, per inerzia, senza più interesse da nessuna delle due parti. Dal divieto di stampare libri, si passa a quello di tessere stoffe, perfino veli, e di qui, stentatamente, al ripiego sulla strazzaria, cioè sul commercio di stracci e abiti usati, tradizionalmente in mano agli ebrei, a Venezia come in tante altre città. Ma anche questa bottega della lista di Spagna è di ebrei? Sì, di un vecchio ebreo di nome... di nome Perez, forse, o Perez con la Z. Ma quando c'è stato l'ultima volta, Mr. Silvera? Forse all'epoca in cui gli affreschi del Pordenone erano ancora a Santo Stefano? No, no, molto dopo, tre anni fa, massimo quattro. Per vendere o per comprare? Per vendere. Un cappotto troppo pesante, un loden con un'imbottitura spropositata. Ah, ecco. Il fatto è, riflette Mr. Silvera mentre traversano il campo San Geremia, che la superficialità è un'arte difficile da praticare, soprattutto con una donna come questa, dotata di un forte senso dell'implicito. Del resto, il non precisato, il non spiegato, il non detto, comincia a premere anche su Mr. Silvera. La finzione del come se niente fosse costa sforzi sempre maggiori anche a lui. Nelle ultime ore ci sono stati da parte sua alcuni piccoli cedimenti, determinati certo dalla sua condizione di stanchezza, ma spiegabili anche, è inutile negarlo, coi sentimenti che Mr. Silvera prova per la sua compagna. Per emergere da quest'acqua emotivamente, pericolosamente alta, e rimettere i piedi su un terreno più spensierato e frivolo, Mr. Silvera le prende il braccio, gesto affettuoso ma anche simbolico, e la interroga su questa signora della cena, su questa Cosima. Una donna, non tarda ad apprendere, sposata e divorziata due volte, molto vista l'inverno scorso al seguito di un influente giornalista economico, ma attualmente in crisi d'identità e perciò più che mai in cerca di saldezze, più che mai scatenata nell'organizzare le sue cerimoniali cene in onore di qualche potente, di qualche personaggio ufficialmente riconosciuto. Un po' ingenua e anche un po' stupida, insomma, ma dopo tutto simpatica. Una vecchia amica. Cioè, non esattamente amica-amica, ma in un senso bella? Bella. Dio mio, sì, bella, in un senso se per bellezza si intende una certa da un punto di vista non troppo ma, insomma, sì, una bella donna. La bottega che Mr. Silvera non era sicurissimo di ritrovare subito è sempre all'imbocco della calletta, dopo la macelleria d'angolo, ma non ha più nulla di timido, di furtivo. Ha montato sopra la porticina un'orgogliosa insegna in anglo-veneziano, srifteria-strazzaria, e si è molto ingrandita all'interno, annettendo i locali adiacenti. Anche l'illuminazione, che Mr. Silvera ricordava piuttosto Rembrandtiana, per non dire avara, è adesso poco meno che accecante, e insieme alle ragnatere dell'ombra sono state annientate le farfalle del silenzio mediante un pervasivo pesticida rock che agisce in sottofondo. Il vecchio ebreo, Mendes si chiamava, Abramo Mendes, è morto. La bottega è stata presa in mano da una sua nipote che ne aveva già due analoghe a New York, e che in poco tempo ha trasformato anche questa in un successo. Una donna in gamba, con un gran fiuto per le mode e il mercato, che sa far funzionare le cose anche da lontano. La ragazza che spiega tali vicende è alta, magra, con lunghi capelli neri tirati spietatamente sulla nuca alla maniera delle ballerine d'opera. Così denudato e spinto in avanti, il suo viso ha una durezza drammatica, smentita però dal sorriso accogliente, dalla soffice cadenza veneta con cui illustra ai visitatori le varie ricchezze della strifteria. Una parete intera è occupata da un'esposizione di maschere e bautte di tutti i colori, argentate, dorate, smaltate, di cartapesta, di raso, di legno, di velluto, di pelliccia, in forme grottescamente diaboliche, delicatamente floreali, mortuariamente anatomiche. No? I costumi, allora? Siepi di costumi carnevaleschi occupano quasi tutta la prima stanza. Mister Silvera scuote la testa, ma la donna che è con lui non può rinunciare a estrarne uno, due, cinque, tutti maschili, e ad ammirarne e commentarne gli ampi drappeggi, gli alamari, i cappucci, i collari, i ricami, gli sbuffi. A lui non rivolge parole né sguardi, ma è chiaro che le piacerebbe farglieli provare tutti, fargli attraversare secoli di storia, dalla guarnacca al giusto cuore e alla finanziera, per insediarlo finalmente in una cornice precisa, trecento o cinquecento, un medioevo barbarico o età romantica. Mister Silvera sorride, aspetta paziente, prosegue con le due donne verso lo strabocchevole reparto dell'usato, si addentra in un vago odore di lavanderia, tra lunghe e sovrapposte file di impermeabili, soprabiti, giubboni, giacche, completi a uno e a due petti, tra scaffali di camiceria e rastrelliere di accessori, dalla cintura alla cravatta e all'ombrello. Quasi tutto è di provenienza americana e la ragazza esibisce orgogliosa certi pezzi da collezione degli anni cinquanta, e perfino un grembiolone operaio di tweed risalente all'inizio del secolo. Poi li guida in uno stretto locale dove pendono paralleli i vuoti involucri da cerimonia. A destra le multicolori tenute femminili, a sinistra la fila in prevalenza nera, ma ci sono dei bianchi, degli ecru, dei blunotte, degli abiti maschili. Ecco qualcosa qui si dovrebbe trovare. Mentre le donne impazienti lo precedono nella ricerca, mister Silvera contempla assorto gli schieramenti di quel ballo di fantasmi. La signora Contessa, cioè Cosima, aveva telefonato pochi minuti dopo che la signora Principessa, cioè io, era uscita, mi spiegò il portiere porgendomi la chiave, e non trovando me, si era rivolta direttamente a lui o restenava in quel grave frangente. Era infatti accaduto? Ma io forse ero già informata di tutto? No, di niente, dissi allarmata. Quale frangente? La frattura, o quantomeno lo slogamento, non si sapeva ancora, d'una caviglia del maestro di casa che aveva incespicato in un tappeto proprio durante i preparativi per la cena di stasera, per cui la signora Contessa, sapendo che lui, Nava, aveva già soccorso altre famiglie in casi analoghi, aveva pensato di chiamare me perché pregasse vivamente lui. Qui il portiere si interruppe con un gesto di riprovazione verso il suo aiutante, un giovane dall'aria sveglia ma un po' cretina, il quale tardava a liberare David dalla sacca della trifzeria e dagli altri pacchetti degli acquisti, ma dovette interrompersi anche per modestia. Secondo la smarrita Cosima, a quanto potei capire, io avrei dovuto supplicarlo, intercedere praticamente in ginocchio presso di lui, promettergli qualsiasi cosa perché stasera venisse a sostituire l'infortunato Cesarino. Era comunque bastato il mio nome a deciderlo, mi assicurò, per cui adesso, malgrado i suoi anni, i suoi reumatismi e la giornata di lavoro che aveva già sulle spalle, si disponeva appunto a correre dalla signora Contessa col suo aiutante Luigi. Io, disse con vivacità quest'ultimo, sostituisco un moro in quanto che... Nava lo mise a tacere con un'occhiata, ci pregò desolato di scusarlo e si mise a spiegarci lui come la padrona di Cesarino tenesse per i ricevimenti d'apparato due mori che, essendo però uno etiope e l'altro somalo, tendevano a litigare. Era dunque sembrato più prudente date le circostanze, ma io avevo smesso di ascoltarlo, sia perché dei mori lo sapevo già, sia perché mi era parso di indovinare ad un tratto a quali superiori disegni dovesse servire la cena da Cosima. Non si trattava di intrattenere un qualsiasi trombone di questa terra, Presidente di Consiglio, Repubblica, Multinazionale o altro che fosse. Si trattava di decidere di onorare definitivamente Mr. David Silvera, l'errabondo eroe dell'Imperial Tours, nelle recuperate vesti del divino Ulisse. Era quello lo scopo di un così largo consesso di numi, da Cosima in veste di maga Circe al grave di Onava e al suo coppiere Luigi, allo zoppo Efesto nei panni di Cesarino, alla litigiosa coppia di divinità africane, a me stessa come sventurata ninfa Calipso e a tutti i semidei, a tutte le semidee invitate stasera. Capitolo ottavo La livrea di casa, giubba di panno amaranto, gilè bianco, va un po' larga al giovane Luigi. Le maniche sono di un buon dito troppo lunghe, le spalle lievemente abbondanti e il colletto non aderisce bene, si inarca sotto la nuca in un'ansa spiacevole. Accigliato, Oreste Nava esamina ancora una volta da capo a piedi il suo aiutante, poi volge lo sguardo a Cesarino, l'infortunato maestro di casa, che siede in poltrona, faccia al televisore spento, col piede poggiato sopra uno sgabello e avvolto in una cospicua fasciatura. La camera ha il soffitto basso ma è molto spaziosa e arredata con solida, vecchiotta eleganza, stampe alle pareti, tappeti e in un bel caspo di bronzo una rigogliosa a spidistra. Accanto all'alto letto di ferro è stata premurosamente sistemata una brandina, in modo che il povero Cesarino non abbia problemi di arrampicamento quando andrà a dormire. Oreste Nava e Luigi sono saliti quassù per il riepilogo e il controllo finali e ora Cesarino fa un cenno di approvazione. Può andare, dice senza entusiasmo, come ti ci senti dentro? Luigi si dimena nella livrea al modo dei contorsionisti da fiera. Benone, annuncia euforico. Mi raccomando, ti devi muovere solo quel tanto che basta, devi soprattutto controllare i gesti, una cena non è una partita di pallacanestro. Mai giocato a basket, ribatte Luigi spiccando un salto e mi manda una presa volante. I due uomini si scambiano un'occhiata sospirosa e Oreste Nava si china a raccogliere il plaid morbidissimo che dalle gambe di Cesarino è scivolato a terra. Il mastro mormora un grazie in bilico tra la regalità e l'autocompassione, dà un'occhiata all'orologio. Andate adesso. Tu prendi quel vassoio, lo portiamo giù noi, ordina Oreste Nava al suo aiutante. Luigi, che si sta ammirando nello specchio sopra il comò, solleva dal piano del mobile il ricco vassoio col quale Cesarino è stato rifucillato alle cinque e si avvia alla porta. E mi raccomando quel tappeto, lo ammonisce ancora il mastro, ci vuole niente a incespicare. In cucina il cuoco e i suoi aiutanti si muovono come chirurghi in sala operatoria, sobbalzano indignati quando Luigi depone di schianto il vassoio sul mortaio di pietra, unico posto libero, ma non aprono bocca. Entra in fretta la padrona di casa, mettendosi a confabulare sottovoce col cuoco e Oreste Nava nota che la deferenza di costui non è servile, indica rispetto professionale da competente a competente. Del resto la signora è una perfezionista occhiutissima di quelle che rompono un po' ma sanno apprezzare. Nulla le sfugge e quando si volta a scrutare Luigi due secondi le bastano per cogliere tutto quel che c'è di insoddisfacente nel giovanotto e nella sua tenuta, anche se conclude con un caldo sorriso di incoraggiamento. Benissimo, magnifico, perfetto. Bella donna, già vestita e truccata ma senza ancora i gioielli, bella pelle, splendide spalle nude e il bianco le dona niente da dire. Percorre svelta l'infilata di salotti e salottini verso la sala da pranzo per un'estrema ispezione e Luigi, seguendola, ne esagera volutuosamente l'ancheggiamento. Oreste Nava cerca di ricordare se a quell'età anche lui non avesse altro per la testa, se un bel sedere sembrasse anche a lui il supremo risultato della Genesi, ma è certo comunque di non essere stato un buffone. Rifila con discrezione una botta nelle costore dell'insolente pagliaccio e pensa un pagliaccio e un moro che Dio ce la mandi buona. Ci sono a Venezia altre due padrone di casa che contendono a Cosima il primato mondano. Nel loro piccolo, cioè, e con gli artigianali strumenti del pranzo e della cena, del cocktail e del ballo, tutte e tre cercano la soluzione di un problema di fronte al quale impallidiscono i più agguerriti sociologi, impazziscono i computer più sofisticati, stabilire chi conti davvero e chi no nel fluido mondo di oggi. Una delle tre, la più rocciosa, la più patetica, opera con pervicaccia nel tradizionale ramo nobiliare europeo, puntando sugli ultimi regnanti in attività, monarchi spodestati, dimenticati, creduti morti da anni, sparsi principi del sangue, problematici eredi di imperi scomparsi. Un giro che le altre chiamano archeologico o sepolcrale, precisando che la sede appropriata di quei conviti sarebbe a rigore l'isola di San Michele, col suo cimitero. Non manca naturalmente una segreta invidia in questi sarcasmi, ma di invidia e sarcasmo è oggetto anche la seconda, la più aggressiva, la più vilare, che rincorre invece sfacciatamente, indiscriminatamente, l'attualità internazionale, pur sotto pretesti connessi bene o male con la cultura. Il grande violoncellista russo, ma anche, perché no, la forsennata rock star, il massimo specialista dell'arte incaica, ma anche, non dirmi, il bellissimo attore inglese adorato da tre miliardi di telespettatrici. In altre parole, cani e porci sibirano le altre due, divorandosi tanto più di curiosità, quanto più quei personaggi sono popolari, volgari, infrequentabili. il sangue, la notorietà e infine il potere che Cosima, la più orgogliosa, la più smarrita, associa come il pane al burro al titolo di presidente, del partito o del consiglio, della multinazionale o della banca, della fondazione o dell'associazione, dell'ente mondiale o dell'istituto intercontinentale. È un titolo che l'affascina di per sé, una parola che pronuncia con indugiante sensualità. Presidente, presidente. Lei stessa è, o è stata, presidentessa di mezza dozzina di comitati di beneficenza, di intervento, di soccorso, vecchi grimaldelli per aprire le porte del potere. Ma i tempi sono sempre più infidi, le gerarchie sempre più instabili. Non di rado le porte si rivelano finte o danno su uno sgabuzzino polveroso, su una fogna, sul vuoto. Il potere non è più lì, forse non è mai stato lì. Continuamente, dolorosamente spiazzata, Cosima ricomincia da capo con un altro presidente, soffocando ogni volta la voce che le sussurra «E se i fili del vero potere passassero magari per le mani del vicepresidente?» E ci sono presidenti onorari, forse tagliati fuori, o forse invece ancora influentissimi. Ci sono ex presidenti, alcuni dei quali conservano il diritto al titolo, altri no. Ci sono futuri presidenti, presidenti ad Interim, presidenti di fatto, presidenti ombra, cripto-presidenti. Per non sbagliare, Cosima allestisce una cena in onore di ciascuno, nella sua classicheggiante, tardo rinascimentale di mora, sulla sacca della misericordia, scegliendo con cura gli ospiti di contorno, le donne belle o interessanti o spiritose o aristocratiche, gli uomini importanti ma non troppo, intelligenti ma con misura, brillanti ma fino a un certo punto. Più che cene, dice Raimondo, sono in realtà dei monumenti, dove gli invitati hanno il ruolo delle statue allegoriche attorno allo zoccolo sul quale svetta, solitario e marmoreo, il presidente. Ma presidente di cosa? Sussurrai a Raimondo che ci era venuto incontro a mani tese tra le semicolonne dell'atrio. In mancanza di un marito o di un amante consolidato dall'uso, era lui, come cugino di Cosima, a ricevere gli ospiti. Come dici scusa? Si girò distratto verso di me, mi prese complice per un braccio. Il presidente? Ah sì, di un qualche anno del... non so bene, ma senti? Guidandomi in direzione del vestibolo, accennò col mento a David che aggirava una colonna a pochi passi più in là e abbassò la voce, chiuse perfino gli occhi per mormorare «Folgorante il tuo giudeo!» «A chi lo dici?» «Con l'età non ci siamo, ma ti giuro che quasi quasi...» «Raimondo, ti prego!» «Sai che non sono riuscito a saperne niente dalle mie spie? Dove l'hai trovato? Chi è?» «Ah!» disse io meglio che potevo, ma l'imitazione andò comunque perduta perché nel vestibolo c'era già un gruppo di altre statue allegoriche intente a liberarsi di cappotti e pellicce e ci trovammo risucchiati in un fitto cruciverba di sorrisi, occhiate, inchini, presentazioni. Conoscevo qualcuno, qualcuno no. Sopra una consola autenticamente veneziana, sormontata dal ritratto di un'antenata autenticamente medicea di Cosima, notai la preziosa lamina segnaposti, un pizzo d'avodio traforato e istoriato in cui attorno a un rettangolo simulante il tavolo erano infilati i cartoncini con i nomi degli ospiti per fargli sapere in anticipo dove sarebbero finiti e vicino a chi. Andai a sbirciare. Al centro, Cosima e Raimondo faccia a faccia, ovviamente, e ovviamente il presidente alla destra di lei. Alla sua sinistra un vicepresidente cinese, Mr. Wang Weimo. Poi venivo io con alla mia sinistra un Monsieur Hentel. Avrei avuto David quasi di fronte accanto alla signora Wang. Tornai alla carica con Raimondo. Ma che tipo di presidente? uno che dà i soldi o che li chiede? Francamente non so. È presidente di un anno, preparano un altro di quegli anni internazionali, l'anno del cardiopatico, l'anno dello zio, l'anno della mucca, sai no? Cosima aspira alla presidenza per l'Italia, presumo. Ho capito, ma lei dov'è sparita? Si sta già lavorando il presidente, gli fa vedere i dessù del palazzo. E non esiste una presidentessa? Esiste, ma pare che sia il genere che resta a casa dall'attare i presidentini. Vieni, andiamo a prenderci qualcosa da bere. Nel salottino degli stucchi, David si era messo a parlare con una bella donna a me sconosciuta che rideva molto, troppo. Ed era lui, leggermente inclinato in avanti, che la faceva ridere. Ed ero io che l'avevo portato qui a condividerlo con cani e porci invece di tenermelo tutto per me nella nostra isola alberghiera, l'anno della cretina internazionale. E mentre anche Raimondo mi tradiva con un signore dalla serissima barba grigia e la rosetta della legion d'onore all'occhiello, mentre sua nipote Ida marciava su di me con l'evidente intenzione di rifilarmi la moglie del cinese, deliziosa ma sicuramente non parlante se non il cinese, Cosima fece la sua drammatica apparizione, tratta in arresto dal presidente. Costui, un omone di pelo rossiccio, di pelle lentigginosa, le aveva messo familiarmente una grossa mano attorno al collo e la sospingeva verso il più vicino commissariato, un cordialone, un giovialone. Lei di là sotto ci falciò tutti con un'occhiata di sfida che diceva a un presidente è permessa qualsiasi cosa e il primo che si azzarda al benché minimo sorrisetto entrerà per sempre nel mio libro nero. Fu forse un caso, o forse no, se il suo sguardo fece in tempo a cogliere sulle labbra di mister Silveira quel sottilissimo sorriso a filo d'erba, un inizio poco promettente. Mister Silveira sa di essersi già fatto un amico e una nemica, un ammiratore e una disprezzatrice. L'amico e ammiratore è questo Raimondo che si adeora accanto a lui su un pallido divano in attesa della cena e si va informando sul suo abbigliamento con liquidi mormorii di meraviglia. Sembra incantarlo soprattutto la camicia da sera che ha un vaporoso jabot ottocentesco e contemporaneamente un colletto tenuto a posto sulle punte da due bottoncini. È una camicia americana di oltre vent'anni fa, spiega mister Silveira, con l'etichetta dei Brooks Brothers, trovata alla lista di Spagna questo pomeriggio stesso. No, ma è divina, fa l'altro sfiorando con le dita il jabot. E che idea prodigiosa di andare in una strazzeria, le cose nuove sono sempre spaventose. Una volta a Sam Morris mi avevano invitato a... Segue un aneddoto in cui Raimondo risulta aver fatto una figura penosamente ridicola, ma mister Silveira non è tratto in inganno dalla volubilità mondana e dalla ostentazione di omosessualità dell'interlocutore. Sa che il vero movente è generoso, protettivo. Raimondo ha visto poco fa la padrona di casa squadrare con sospetto mister Silveira, prendere atto della singolare camicia, rilevare la quasi impercettibile differenza di tonalità tra la giacca di un blu così notte da sembrare nero e i pantaloni che sono del nero classico e ha sentito la padrona di casa sottoporre mister Silveira a un breve acidulo interrogatorio. Imparentato coi Silveira di San Paolo del Brasile e quelli che... No, no. A Venezia di passaggio? Sì, per qualche giorno. Turismo? Lavoro? Lavoro, lavoro. Antiquariato anche lui? No, no. Agenzia di viaggi, Imperial Tours. Ah, per la settimana turismo e informatica che si apre dopodomani alla fondazione Cini presieduta da... No, no. Ma mister Silveira rappresenterà la Imperial al Summit di Trieste? Ne è per caso il presidente, il vicepresidente? No, no. Mister Silveira è semplicemente un accompagnatore, una guida, insomma, quello che porta le comitivi a vedere Rialto e il ponte dei sospiri. Raimondo ha sentito la padrona di casa emettere una risata altamente innaturale. Ha letto nei suoi occhi il dilemma scherzo, niente spiritoso o verità da svenimento immediato. La vista riprendersi, girare brusca le spalle a mister Silveira lasciandolo cadere come persona comunque non grata che la sua amica romana mai e poi mai avrebbe dovuto sognarsi di portarle in casa e per di più ha una cena di questa importanza. È stato allora che Raimondo si è preso cura di mister Silveira gli ha teso una mano solidale e amica sotto specie di vacuo chiacchiericcio. Mister Silveira non ne ha bisogno, non si sente minimamente a disagio in questa che è fondamentalmente una comitiva come qualsiasi altra comitiva, ma apprezza l'intenzione, è grato per il piccolo gesto. Ora il buon sammaritano prende una mandorla dal vassoio che gli presenta un bruno domestico in Livrea Amaranto, mordicchia lezioso, avvicina la testa a quella di mister Silveira e gli sussurra un altro aneddoto, questa volta sulla padrona di casa, che ci teneva tanto all'idea di avere due domestici di colore, due mori come si usava nelle antiche case veneziane e alla quale uno dei suoi comitati contro la fame nel mondo aveva infine procurato due africani molto decorativi ma purtroppo di due etnie diverse, etiope Shohana e somalo Migiurtina, nemiche mortali da secoli, sicché non potevano essere utilizzati insieme, combinavano terribili malestri. Mister Silveira ride quanto è necessario a questo che sembra un pettegolezzo di malalingua alle spalle della padrona di casa e che è invece un segnale di riconoscimento tra uguali, tra saggi disincantati conoscitori delle umane debolezze e per far capire che ha capito scivola con leggerezza dalla perfidia all'indulgenza, osserva che il desiderio di avere ai lati di una porta due mori di carne e ossa anziché di legno o ceramica è in fondo un sintomo di freschezza, di simpatica ingenuità, un capriccio da bambina che cura meticolosamente la sua casa di bambole. Gli occhi dell'altro sfavigliano di gratitudine. Ma infatti, ma infatti! Cosima non lo sa, ma il suo massimo charme è proprio questo. È una donna che si crede pratica, realistica, astuta, dura e che vive al contrario in una perpetua favola, in un mondo popolato di figure allegoriche, la fame, la speranza, la fratellanza, l'epidemia, il capitale, lo sviluppo. Una donna semplice, segretamente timida, sprovveduta, che con queste astrazioni si protegge dall'urto con i fatti della vita. Il passaggio alla psicologia è compiuto, ogni velenoso vapore di pettegolezzo è dissipato. E quando l'oggetto della conversazione fa di lontano un cenno di richiamo a Raimondo, questi si alza sussurrando benevolo. Con Cosima bisogna in un certo senso mettersi sempre in costume, altrimenti non capisce, non apprezza, non si diverte. E a voce ancora più bassa, sfiorando ancora il jabot, aggiunge Lei non ha un qualche vestito allegorico da mettersi? Mister Silveira annuisce sorridendo anche lui. Più di uno, dice, più di uno. I commensali hanno appena finito di prendere posto attorno al prolungato ovale del tavolo e Oreste Nava, ritto tra due mensole, severo nel suo frac, li domina come un direttore d'orchestra. Ciò che vede lo soddisfa, gli piace. Sull'immensa tovaglia, che oltre allo stemma di famiglia alle due estremità esibisce la civetteria di qualche piccolo rammendo, sfolgrano i cristalli e gli argenti, i fiori e le porcellane e la luce di ventiquattro candele impreziosisce i candidi sparati dei signori, gli occhi delle signore, le loro unghie laccate, i loro inestimabili gioielli. È una scena di armonia e di magnificenza, cui contribuiscono in secondo piano alle pareti sei grandi tele traboccanti di fiori, fogliami, selvaggine, pesci, molluschi, frutti. E dall'alto, stucchi cremosi, legni rosseggianti e dorati chiudono delicatamente questa nobile scatola, mentre in basso i mosaici del pavimento fanno ala un tappeto di proporzioni imponenti che tuttavia mantiene una suaria di sommessa supina praticità. È il tappeto in cui Cesarino ha inciampato e Oreste Nava ne ripercorre con l'occhio il perimetro in cerca di eventuali pieghe o subdole gobbe. Tappeto traditore ma propizio perché senza di lui Oreste Nava ora non sarebbe qui, spettatore e attore in questa bella cerimonia. Ai due lati del paravento che occulta il corridoio di servizio, il giovane Luigi e il giovane Issa si tengono pronti a un suo segnale, il moro più sciolto, più teso e impettito Luigi. Oreste Nava pensa che, come capita agli sbruffoni, il ragazzo sia infine intimidito se non spaventato dalla solennità del momento, ma deve ricredersi quando i loro sguardi si incrociano e il pagliaccio si rigidisce ancora di più, serra la mascella, tira indietro le spalle, gonfia il petto in una posa grossolanamente caricaturale. Nessuna serietà, mai, nessuna coscienza. Oreste Nava impotente lo fulmina, ma se anche ci fosse modo di rivolgergli la parola, che cosa saprebbe dirgli in pratica? Che ci vuole un po' più di rispetto? Ossia esattamente ciò che ripetono i vecchi brontoloni e rompicoglioni, esponendosi alla replica immediata quale rispetto? Per chi? Per cosa? Impotente, Oreste Nava smette di arzigogolare. Una cena, ecco, deve riuscire perfetta e tutti quelli che vi partecipano devono collaborare alla perfezione artistica dell'insieme. In questo momento avviene il sacrilegio, ma perpetrato non dal povero Luigi, non dal moretto. Il colpo arriva dal rosso presidente, mai fidarsi di un pelo rosso, che finisce di dire qualcosa alla padrona di casa, rivolge brevemente la parola alla sua vicina di destra e poi dedica la propria attenzione alla tazza di ambrato con sommecchia sul piatto. Esita un momento. Dov'è il cucchiaio? Oreste Nava rabbrividisce. Se potesse si coprirebbe gli occhi con la mano. Perché quello infatti lo trova il cucchiaio, lo impugna contento, lo immerge, lo porta alla bocca. Ma è un delicato, squisito, piccolo cucchiaio di vermeil, un cucchiaio puramente di figura, il cucchiaio del dolce che non andrebbe mai usato nemmeno per il dolce. Oreste Nava vede la padrona di casa afflosciarsi per un istante sotto lo shock, poi rialzare le spalle e la testa, impettirsi tutta come Luigi e far scorrere lungo l'ovare del tavolo uno sguardo imperioso. E via via gli ospiti, chi per amicizia, chi per acquiescenza, chi per divertimento, cominciano anche loro a prendere il cucchiaio di vermeil e a immergerlo nel consommé uno dopo l'altro. Una grande prova di forza, una prova di grande tatto. Imposto il suo gioco, la padrona di casa beve un sorso d'acqua e lascia intatta la sua tazza, scegliendo per sé la via del compromesso o piuttosto del privilegio indiscutibile. Ma no, qualcuno non ci sta, qualcuno tiene duro. Paralizzato nel suo frac, prigioniero del silenzio, Oreste Nava non ha mai tanto desiderato che la telepatia fosse una cosa più o meno come il telefono, perché senza dubbio il denso Luigi si lascerà sfuggire la grande lezione offerta da Mr. David Silvera, il quale ora solleva come si deve la tazza per i due manici e se la porta alle labbra, appena dischiuse per bere, ma che sembrano atteggiate a un sottilissimo sorriso. Mi chiedo se non fu proprio la battaglia del consommé a cambiare il corso della serata. Io assistetti solo alla metà, per così dire, dello scontro, dato che dal mio posto potevo vedere David, non Cosima. Ma Raimondo mi faceva da specchietto retrovisore e l'occhiata che mi gettò tra due cucchiaiate per lui obbligatorie era di puro gongolamento. Ne dedussi il furore della padrona di casa, raddoppiato tre secondi dopo dalla defezione della cinese che, seduta alla sinistra di David, si schierò in tutta innocenza nel campo del ribelle. Giusta punizione per un brutto scherzo disinvoltamente giocato sia a me che al mio cavaliere. Tu gli piazzi a fianco l'ospite più difficile e disperante che balbetta solo qualche yes e qualche sorry? E lui subito se ne fa un'alleata. Ma conoscendo le donne, mi chiedo se, così contrastata, battuta, Cosima non abbia proprio da quel momento cominciato a rivalutare il misero fatturino turistico vestito di trifteria, a vederlo emergere dai cangianti alone delle candele come un elegantissimo, bellissimo, affascinantissimo presidente del mistero, a vederlo insomma come lo vedevo io, anzi, come io l'avevo superficialmente visto tanto tempo fa, piramidi fa, perché ora tra me e David c'era ben di più che l'intimità di due amanti, c'era questa cosa, questa compenetrazione totale che lo guardavo con un fiero e tenero sentimento di possesso che un tremolio di fiamma bastava a mettere in crisi, quale possesso, quale compenetrazione, di mister Silvera continuavo a non sapere praticamente nulla, tra noi tutto poteva finire domani, dopo domani e la nostra piramide non era più alta o in peritura di una goccia d'acqua, passavo all'amarezza più cupa, all'ansia più strangolante per poi tornare a chiedermi perché, perché avevo accettato e continuavo ad accettare l'idea che non ci fosse niente da fare, m'ero arresa troppo presto, m'ero rassegnata alla separazione, all'addio per sempre, senza che lui avesse dato una sola buona ragione o almeno una scusa decente, pochi, ah, gettati come fumo negli occhi, poche frasi oblique a zigzag come la linea 1 gli erano stati sufficienti per chiudermi la bocca, ma il presidente aveva da tempo aperto rotondamente la sua, il diesel pastoso, regolare, ben lubrificato che il mio udito tentava in vano di ignorare era la sua voce. Queste cene di Cosima funzionavano un po' come consigli d'amministrazione in cui il presidente veniva messo in condizione di avere la prima, la media e l'ultima parola, cioè aiutato a sviluppare i suoi propri argomenti e sorretto via via con commenti e apprezzamenti adeguati, mentre gli eventuali focolai di conversazione autonoma che nascessero attorno al tavolo venivano spenti spietatamente. I poveri consiglieri dovevano mettersi in testa che a loro spettava la variazione, l'elaborazione su tema presidenziale, niente di più. E il tema del presidente diesel era, sorpresa sorpresa, Venezia, ovvero il suo famoso carnevale, che verso la fine del Settecento e della Repubblica durava sei mesi, un'intera città che per mezzo anno cantava e ballava per campi e campielli, di giorno e di notte, in una fatale febbre dissolutoria. Così andava pontificando il brav'uomo in un palazzo veneziano, era il tipo di conversatore che spiega a Omero la guerra di Troia. La douceur de vivre, disse sognante la donna alla destra di David, quella che rideva troppo. Il sogno di ogni assessore al turismo, disse soave Raimondo. Ma anche una bella fatica, disse io lugubremente, e soprattutto un gran strazio per quelli che non ne avevano voglia, immagino. L'idea di trovarsi per sei mesi di seguito in mezzo a una folla di maschere gioiose mi pareva un supplizio da girone dantesco. Ma per chi non ne aveva voglia, disse David rivolto non a me ma alla padrona di casa, c'era una scappatoia elegante, bastava che si infilasse una carta da gioco nel cappello e le maschere lo lasciavano in pace. Molto interessante, disse il Diesel, molto molto civilizzato, dimostra come il pragmatismo democratico dei veneziani fosse. Io vidi David sul ponte di Rialto con un fante di cuore nel tricorno che si apriva un barco ma senza toccare nessuno tra scheletri, arlecchini, scimioni, pascià, colombine. Dove andava? Come ci si trovava nel Settecento? Lo guardai per raccogliere almeno un'occhiata se non un amicco. Ma lui si era già rimesso a parlare con la sua vicina di destra che rideva più di prima, tutta animata, tutta esuberante dal capello al capezzolo. Forse non lo divertivo più se era già stufato di me. Mi venne in mente un mio amico, un antiquario di Parigi al quale, con ogni nuova donna, bastava una notte, talvolta un mezzo pomeriggio, per provare una noia lancinante, il tedio assoluto, metafisico, da suicidio. Appena finita la cosa, mi aveva confidato, si sporgeva dal letto e al posto della moquette vedeva il vuoto cosmico, il guffr. Casanova doveva essere così e Lord Byron ed Annunzio. Ecco cosa ci faceva David Casanova nel Novecento, un rapido visitatore di corpi femminili, un turista di donne. Non volgare, certo, non brutale, macio o allegrone gaudente, ma nemmeno quelli là lo erano. Dolce e delicato e irresistibile, con quel sorriso carico di malinconia e rassegnazione, il genere di sorriso nel quale sarebbe cascata anche l'assunta, buttandosi a capofitto dalle nuvole di Tiziano. Solo che la rassegnazione era destinata a mio uso e consumo, un programmino, un avvertimento. Guarda, coca, che io mi stufo subito, ti dovrai rassegnare. Era indubbiamente una delle chiese più suggestive di Venezia. Demolita, rasa al suolo, non è rimasto che un rudere qui dietro sul rio dei Servi, diceva con sentimento il mio vicino di sinistra. Ma è terribile, rispondevo con pari sentimento. Quale chiesa? I frari con l'assunta dentro? E quando? Perché? Non avevo seguito, non me ne importava niente. Ero io la rasa al suolo. Mangiavo come si imbocca un altro, un malato, indifferente al piatto storico che il cartoncino del menù annunciava nella cornice dorata, pavone rivestito con ripieno di tordi e contorno di maccaroni alla muratora. Alle cene di Cosima c'era sempre qualche tocco di filologia gastronomica ogni volta diverso pescato da antichi libri di cucina veneta. Il libro era quello di Barzolomeo Scappi in questo caso e il pavone, durissimo, era rivestito nel senso che gli avevano rimesso la coda mentre i maccaroni erano una specie di gnocchi alla piemontese. E c'era anche sempre come adesso un copioso contorno di domande di profani con spiegazioni di filologi e gastronomi, considerazioni storiche su fonda chi è commercio di zafferano, zenzero, coriandolo, sulla via delle spezie, su caravelle e caracche, Magadasso, Omogadiscio, Calicut, le Molucche, Luke Luke mister Silvera. Io l'avevo stufato col mio menù storico mister Silvera. Ecco perché ora se ne stava tutto inclinato verso sinistra a tentare di far ridere di osacome a smorfie, a gesti anche la cinesina monoglotta. Ma almeno quella non poteva fargli una testa così sul Pordenone e Santo Stefano, non lo costringeva a interessarsi per ore a una collezione di croste, non lo forzava a passeggiare nel chaser tra rabbini e marrani e prestasoldi. In una piccola pozza di silenzio cadde distintamente la parola gus. Fantasmi? Chi parlava di fantasmi? Ma no, chiariva Raimondo, spiriti nel senso di begli spiriti, di Witz che si riunivano lì in amabili conversazioni. Ancora Venezia, ovvero il casino degli spiriti, una costruzione quadrata che si intravedeva dalle finestre di uno dei saloni di Cosima, laggiù, tra gli alberi di un grande giardino in abbandono. Niente fantasmi, diceva qualcuno, peccato. Peccato davvero, diceva la vicina caucasica di David giungendo mani esuberanti di anelli. Pensa essere a cena con i fantasmi del Bembo e di Caterina Cornaro, quelle sì che erano conversazioni. E questa sì che era una gaffa. Nel mio retrovisore, Raimondo, vidi riflesso il corruccio di Cosima spianato dall'intervento di David. Io non credo che fossero poi molto divertenti. Era un gioco piuttosto elaborato, formale, non privo di pedanteria, un po' come i balli dell'epoca. Ma ci veniva anche l'aretino, precisò qualcuno. Ci venivano col Bembo, Tiziano e il Sansovino. Gente eccezionale, concluse ammirato il Diesel, dovevano essere ragionamenti ad altissimo livello. Altissimo livello? Ma se secondo voci raccolte dal Vasari erano stati proprio quei tre a far fuori il Pordenone. E proprio lì, forse, in quel casino nel folto degli alberi, era stato discusso e preparato il piano, procurato il veleno, il sicario. Vidi David staccarsi dall'ombra di un platano gigantesco, sgusciare rapido all'interno per una porticina laterale, che ci faceva lì nel Cinquecento. Vidi il canuto, catarroso Tiziano, consegnargli una fiala che David faceva sparire in una tasca. Vidi l'aretino, tendergli con un sogginio, una borsa di velluto piena di monete d'argento false. Un quadro, una buia, grande crosta di due metri per tre, scovata da palmarini in una villa di Ferrara e che ora la Federen avrebbe esportato in Sudafrica o in Sudamerica. C'erano ostriche, brocche e frutti sul tavolo in secondo piano. Il Sansovino e il Bembo facevano capolino da una tenda damascata. Un cane d'almata dormiva in un angolo. Dopo Napoleone, naturalmente, disse una voce in fondo alla tavola. Dal Cinquecento all'Ottocento. La chiesa demolita, rasa al suolo, era chissà come risorta e ricadeva ora sulla tovaglia stemmata con altre rovine seguite all'arrivo dei francesi e alla chiusura dei conventi, alla confisca dei beni ecclesiastici, alla soppressione degli ordini religiosi. Santa Maria dei Servi era solo una delle tante, ma anche interi palazzi erano scomparsi, intere collezioni d'arte erano state vendute e disperse. «Ma il ghetto, però!» cominciai a dire pensando al ballo gioioso dei rabbini. Mi interruppi, ero senza voce. L'armè di Talì me l'aveva confiscata. Mentre bevevo un sorso d'acqua e il presidente prendeva a parlare di guerra e di pace, di America e Russia e Terzo Mondo, percepì un rumorino sottile, una specie di pigolio prolungato che insidiava il battito solenne del suo diesel. Era la cinesina che rideva, David Casanova ce l'aveva fatta e la verità era che una volta ancora non avevo capito niente di lui. Fra tante ipotesi e fantasticherie, la più semplice non l'avevo nemmeno presa in considerazione. Altro che piramidi, era un farfallone di inaudita efficienza che svolazzava velocemente attorno, suggeva rapidissimo il primo fiore che gli capitava, passava a un altro, suggeva non meno rapido, passava a un altro, suggeva. Napoleone la detestava, confidai al mio vicino di destra, ma era una donna che sapeva prendersi quello che voleva. «Chi scusi?» fece lui, rimasto forse nel Cinquecento o già saltato nel Novecento. «Madame de Stal?» «Ah, sì, certo, una donna eccezionale, perfino il Duca di Wellington, che era il Duca di Wellington. Ecco, vedi, quella non si lasciava suggerire da nessuno. Aveva saputo tenersi stretto per anni il suo Benjamin Constant, che era Benjamin Constant, ben che lui non sognasse che di filarsela, senza tanti scrupoli, con urli, pianti, scenate, ricatti, svenimenti, fregandosene allegramente di tutte le belle favole sulla delicatezza e il riserbo, il fair play, il tatto, lo stile. Una megera? Una pescivendola? Ma intanto il Benjamin Silvera, sempre insufficiente, mai necessario, era sempre lì a portata di mano. Vidi David che mi facevano usare una boccetta di sali dopo una crisi isterica. Aveva la faccia tutta graffiata dalle mie unghie, il giabò a brandelli e mi sussurrava di stare calma che non sarebbe partito più né domani né mai. Il pigolio si era fatto più acuto, tintinnava lungo tutta la tavola come un concerto di bicchieri di cristallo. Che tipo di risata era? Libera e irrefrenabile per un orecchio cinese? O sullo scandalizzato divertito? O magari sul malizioso galante? Non c'era modo di capire. Bisognava conoscere il catai, usi e costumi? Retrocessi David nel 200, vestito come Marco Polo, che si ludeva di aver definitivamente conquistato la mandarina con le sue smorfie e invece quella risata era il segnale della sua caduta in disgrazia, anzi, della sua condanna a morte, Zack, decapitato. Gli occhi brillanti e eccitati, la mandarina si rivolse a suo marito che sedeva alla sinistra di Cosima. Corsero tra i coniugi rapide sillabe, altri entusiastici pigolii. Poi David confidò a tutte e due allegramente sentì la voce sbalordita di Cosima. Ma lei conosce il cinese? Ah, disse Mr. Silvera. E no, disse io a me stessa. E no. Oreste Nava considera spassionatamente la colpa di cui si è appena macchiato. Con la salsiera in mano è venuto a trovarsi alle spalle della signora Ridanciana seduta alla destra di Mr. Silvera nel preciso momento in cui Mr. Silvera concludeva il suo discorsetto in cinese. Cinese, cinese, non il pigeon di cui Oreste Nava conserva qualche ricordo dai suoi lontani anni di Singapore. Immediatamente la padrona di casa ha voluto sapere di che cosa si trattasse. Di una poesia o piuttosto canzoncina dello Shiching, ha spiegato in inglese il signor Wang, di cui la signora Wang non ricordava le parole e che il suo onorevole vicino ha avuto la compiacenza di recitare. Come i suoi onorevoli commensali sapevano, ha aggiunto il signor Wang, lo Shiching, o libro delle odi, era una raccolta di antichissime poesie cinesi curata dallo stesso Confucio 2500 anni fa. L'informazione ha visibilmente impressionato la padrona di casa e tutti i presenti e la richiesta al signor Silvera di una immediata traduzione italiana ha disteso sulla tavola una tovaglia di silenzio, di palpitante attesa. Sarebbe stata seria scorrettezza, grave mancanza di sensibilità, intromettersi a quel punto con una salsiera, sia pure di cesellatissimo argento. Ma Oreste Nava sa benissimo che queste sono scuse indegne di lui, giustificazioni a posteriori buone tutt'al più per un giovane come Luigi. Sa benissimo di essere venuto meno ai suoi ideali di efficienza e imperturbabilità, di essere rimasto lì imbambolato, con la salsiera in mano e il labbro pendulo, dimentico del dovere, del servizio, della divisa, attento solo a non perdere una sola parola della traduzione che i suoi ricordi d'Estrema Oriente gli hanno fatto automaticamente allineare dall'alto in basso e da destra a sinistra come va letto il cinese. Obliosa signora, tua beltà aspetto io presso bastioni angolo, amo ma non vedo, gratto testa, dubbioso rimango. Ching nu, tutti provano a sillabare entusiasti, Ching nu, obliosa signora che ha dimenticato l'appuntamento e quello poveretto lì a grattarsi la testa, Ching nu, un gioiello, un incanto, un capolavoro. Oreste Nava conosce bene questi scoppi iperbolici, ma la poesia è sembrata bella anche a lui, una poesia semplice, fresca, gentile, una poesia d'amore, apprezzabile anche dal giovane Luigi, anzi, soprattutto dal giovane Luigi. E sempre con la salsiera in mano, si è perso a riflettere sulla seguente incredibile verità. 2500 o addirittura 3000 anni fa, l'amore era già come adesso, più o meno, stesse situazioni, stessi sentimenti. A questo punto, i suoi occhi divaganti verso l'angolo dei bastioni hanno incontrato quelli della padrona di casa, come già innumerevoli volte durante il corso della cena, in un fitto scambio di muti segnali. Colto in fallo, il colpevole ha avuto un risveglio mortificato, ma lo sguardo della padrona di casa non conteneva il minimo rimprovero. Ha scivolato su di lui con infinita indulgenza, illimitata comprensione, per posarsi poi statico, su Mr. Silvera, che ha rifiutato la salsa, come del resto la sua vicina. Gran cosa la saggezza orientale, si dice ora a Oreste Nava, mentre la padrona di casa rivela a Mr. Silvera di aver sempre enormemente ammirato, e anche saltuariamente praticato, la filosofia cinese, giapponese, tibetana e indiana. Sono civiltà molto interessanti, dichiara il presidente del cucchiaio, molto molto interessanti, che noi occidentali? Ma le sue considerazioni non hanno pubblico. La sua quotazione è ormai chiaramente in ribasso. Oreste Nava la vista declinare a poco a poco dal consomme in avanti. Non è a lui che la padrona di casa si rivolge per esprimere le proprie affinità con Confucio e Buddha, la propria fede, un buon 50-50, nella trasmigrazione delle anime. Non è con lui che si abbandona a un'appassionata difesa del guru siculo tibetano Turi Dananda, di cui ha seguito l'anno scorso i corsi di meditazione ad Ascona, poco prima dell'arrivo della polizia cantonale. Un uomo di superiore spiritualità e appunto per questo calunniato dai suoi molti, invidiosi nemici. Un uomo che sa dare ai suoi seguaci quel distacco, quella pace interiore, quel senso mistico della vita che sono, come Mr. Silvera certo vede, completamente assenti dalla civiltà occidentale, così materialistica è assurdamente competitiva. Io trovo però che i valori fondamentali dell'Occidente, obietta in tono minore il presidente del cucchiaio, sebbene siano entrati, non può continuare. Io trovo che il lavoro a maglia, lo sovrasta una voce femminile, mi tranquillizza spiritualmente più di qualsiasi altra cosa. Una bella manica araglana è un vero e proprio esercizio di concentrazione trascendentale, almeno per me, e anche l'uncinetto. È stata la principessa del 346 a parlare. Polemica, quasi sarcastica. Oreste Nava ha già notato in lei altri piccoli segni di impazienza, di nervosismo ed è chiaro che qualcosa stasera non le va a genio. Forse la conversazione ha preso una piega per lei noiosa, troppo intellettuale e storica, tra Tiziano, Napoleone, Confucio e il discutibile guru Turidananda. Peccato. Avrebbe bisogno anche lei di un po' di quella saggezza orientale che ti mette al di sopra delle piccole contrarietà, dei meschini risentimenti della vita. Oreste Nava pensa nostalgicamente ai giardini di Singapore lussureggianti di fiori esotici, accanto ai quali rimpiccioliscono le tremende incazzature che gli faceva prendere il personale native, cinesi, malesi, canachi, indiani e altri battifiacca della zona. Quando si accorge che nel servire l'insalata il Ching Testone, l'oblioso Luigi, ha saltato la moglie del vicepresidente di un gruppo editoriale, l'occhiata che gli getta per indurlo a rimediare non è l'equivalente ottico di un gran calcio nel sedere, ma appare soffuso di millenaria indulgenza, di tutta la filosofica, mistica comprensione che si può trovare a est di Suez. Capitolo nono. Il mondo può caderti addosso mentre prendi il caffè. Ero seduta su una poltroncina nel salone del veronese e il buon Nava mi stava porgendo la zuccheriera con un'espressione di inesplicabile melensaggine quando con la coda dell'occhio vidi David che puntava dritto su di me. Più che normale dopo la nostra lunga separazione, routine di cortesia da parte di un qualsiasi marito o amante gentile e affezionato. Ma appunto questo mi infiammò. Cosa c'era di normale tra di noi? Tutto a un tratto non sopportavo che si fosse adattato così bene alle regole formali della serata. L'obbligo che avrebbe dovuto sentire a questo punto era semmai di un gesto di rottura clamoroso scandaloso non so strisciare fino a me sulle ginocchia baciarmi appassionatamente davanti a tutti strapparsi di dosso quella sua giacca quella assurda camicia sollevarmi tra le braccia e proclamare ladies and gentlemen io amo questa donna e adesso me la porto via. Ma se non ci pensava da sé se preferiva giocare al perfetto uomo di mondo non ero certo io che potevo fare il primo passo tutte le cose che durante la cena avevo pensato su di lui contro di lui mi si agitarono dentro come le mani degli zombie si sporgono disperatamente per uscire dalle tombe nei film dell'orrore e orrore sarebbe stato lasciargli e ne vedere anche una sola un mignolo era essenziale era questione di vita o di morte avere la forza e la freddezza di ricacciarle sottoterra a qualsiasi costo dovevo presentargli una faccia altrettanto normale col sangue in surgelo i muscoli facciali tornati all'età della pietra e la voce chissà dove mi preparai ad accoglierlo da perfetta donna di mondo tutto bene? disse lui benissimo ottima cena disse io non ho ancora fatto i complimenti a Cosima ma voglio simpatica persona osservò lui sì te l'avevo detto e molto ambote stasera e anche la cinesina non era male e anche quell'altra estroversona che avevi a destra ti sei divertito? beh sai fece lui io mi sono proprio divertita è stata una conversazione molto molto interessante davvero ad altissimo livello fin troppo per me addirittura Confucio Confucio era dedicato a te non mi dire come Shakespeare beh sai ripete lui ma cosa so disse io con tutti i miei denti fuori non so niente bevi il tuo caffè disse lui doloroso e appena si può ce ne andiamo ma a che scopo scusa io mi sto divertendo bevi il tuo caffè un disastro il peggior tra due sedie possibile rinunci allo stile pescivendola allucinata tipo Madame de Stal ma allora devi saper fare fino in fondo Caterina Cornaro regina di Cipro che nemmeno le nota certe miserie la debacle più completa la fine della serenissima bevi il mio caffè come se fosse stato cicuta grata a Ida la nipote di Raimondo che venne a portarmi via il Confuciano te lo posso rubare un momento? è tutto tuo un successo un vero trionfo che andò avanti per un'ora buona se lo passavano di mano in mano di puffin sgabello il mystery man e venivano da me come se fossi il suo manager ma chi è? cosa fa? da dove arriva? dove va? coltelli rigirati nella piaga venne a un certo punto anche Raimondo che aveva capito tutto mi faresti un bel maglione girocollo per Natale? comincio domani come lo vuoi con le trecce a maglia inglese o? mi interruppi trafitta gli ho anche regalato un cardigan balbettai Bordeaux di Kashmir allora parliamo di domestici disse Raimondo in soccorso lo sai che il mio Alvise se ne vuole andare in pensione? gli ho detto senza mentire che è l'uomo più importante della mia vita ma lui tira fuori la scusa dell'enfisema mi esorta a guardarmi in giro ma come? dove? tu pensi che Cosima mi cederebbe uno dei suoi moretti? mi guardai in giro David era lontano in un crocchio attento di cui faceva parte anche Cosima è proprio irresistibile dissi vieni hai bisogno di un whisky? sì quel pavone storico mi è rimasto tutto qui mi condusse whisky in mano fino a uno dei finestroni che davano sul giardino erano finestre dai vani profondi con sedili di pietra protetti da tende che ariaggiavano il confessionale ci sedemmo sembra un confessionale profittano per confessarti pecorella mia quante volte? ma non poi molte se si va a vedere è la qualità che conta sei completamente partita eh? sì come mai in vita mia letteralmente liquefatta e lui invece niente? è questo il problema? e lui invece non so se stiamo ai fatti? così gli raccontai della moneta che mi aveva regalato e poi di quel tramonto sulla nave per Chioggia di certe straordinarie delicatezze che aveva avuto verso di me di certe minuscole magiche intuizioni a letto e fuori dal letto gli raccontai dei baci che mi aveva dato in tutti gli angoli di Venezia e della pensione marine e della suite dove avevamo letto dei pompieri alla giudecca gli raccontai del ghetto del rabbino Schmelke e della panchina tra un sorso di whisky e l'altro gli raccontai fatti? ma no un profluvio di caotiche frasi sviscerando particolari inessenziali accatastando sconnesse impressioni sfumature inesprimibili di volta in volta pensosa drastica sognante ridente freddamente deduttiva tortuosamente induttiva e nell'insieme totalmente confusionale capisci? dissi riprendendo fiato una parola che in via del tutto retorica avevo ripetuto un centinaio di volte ma questa volta Raimondo uscì dal suo silenzio no non capisco mi fermai in ascolto tutto quello che avevo appena detto mi suonò come un catastrofico rovinio di stoviglie scusami per lo sceno sfogo ma non ne avevo ancora parlato con nessuno no no benissimo figurati sono qui per questo ma a sentirti sembra la descrizione di un grande amore impossibile quello che non capisco è perché sia impossibile tutti gli amori sono possibili ormai è questa la noia ma non lo capisco nemmeno io non lo so nemmeno io Raimondo mi posò una mano sul braccio no scusa ma non gli hai chiesto non hai un po' chiarito la situazione ma cosa vuoi chiarire con uno svicolatore di quel genere lui divaga evita ti passa tra le dita come acqua ci ho provato non credere e tutto quel che ne ho ricavato è che può essere chiamato da un momento all'altro e allora addio chiamato? e da chi? e chi lo sa? mystery man Raimondo si grattò la testa grattò testa dubbioso rimango disse guarda dissi io potrei starti a dire dei suoi misteri fino a domattina e non ne verremo a capo prova a farti dire da lui se credi ma so già che non ne caverai niente non è detto vedrai che saprò confessare anche lui disse Raimondo mettendomi un braccio attorno alle spalle in maniera di assoluzione e riconducendomi fuori ma era troppo tardi con un braccio intorno alle spalle di Cosima il mystery man stava entrando in quel momento in un altro confessionale la bella mano di mister Silvera si stacca con un ondeggiamento di foglia dalla bella spalla della padrona di casa e i due restano fianco a fianco in piedi senza guardarsi rivolti verso l'alta notturna fenditura della finestra non c'è imbarazzo né tensione in mister Silvera che durante tutta la cena ha registrato la curiosità della donna stimolandola qua e là facilmente e che ora nella relativa segretezza di questa nicchia si accinge a procedere dalla strifteria del suo passato dai molti paesi e popoli che ha conosciuto dalle tante situazioni in cui si è trovato estrae senza difficoltà un tono confidenziale insieme solitario una voce tentata dal silenzio come di trottola agli ultimi giri vede Cosima dice la verità è che io non avrei dovuto non dovrei assolutamente essere qui il suo sguardo sembra indicare il lungo giardino del palazzo col casino degli spiriti laggiù in fondo e di fianco luccicante dietro gli alberi il nero rettangolo d'acqua della sacca dei miracoli qui in casa mia vuole dire la donna è sorpresa malusingata da questa preferenza negativa no dice mister Silvera qui a Venezia avrei dovuto restarci soltanto poche ore il tempo di portare un po' in giro la mia comitiva alza la mano e il polso ha un'annoiata torsione dimostrativa San Marco Palazzo Ducale Murano e poi ripartire subito per dalle luci dell'aeroporto che si intravedono a nord giusto davanti a loro il gesto s'allarga verso est il canale di San Nicolò il porto di Lido il mare ma già intanto la mano vagamente ricade e la direzione del viaggio resta incerta gli occhi restano fissi sul canale delle navi dove qualche raro vaporetto debolmente illuminato ancora va e viene tra la città e le sparse isole della laguna superiore le labbra della donna si staccano una dall'altra come se la lunga pausa le avesse incollate ma lei comincia a dire guardando le cupe masse degli alberi poi sembra scrollarsi come un passero bagnato ricupera una scioltezza mondana si volta animata verso mister silvera io non voglio sembrarle indiscreta per carità non voglio sapere dove doveva andare e perché non c'è andato si ferma scontenta di sé del suo strumento qui inappropriato inservibile volevo solo dire continua a voce più bassa e di nuovo fissando il giardino lei non è sul serio una guida un capo comitiva no? no non proprio lascia cadere mister silvera la donna ora gli sorride senza impaccio rincuorata riconoscente per quella missione che premia il suo intuito nonché ritiene le sue doti di persuasione mi pareva commenta un mestiere un po' strano per uno come lei ne ho fatti di più strani si lascia sfuggire mister silvera ma il solo mestiere che ho mai fatto sul serio è un altro si infila le mani nelle tasche della giacca lasciando fuori soltanto i pollici e comincia ad ondolarsi molto lentamente avanti e indietro tacchi e punte come adeguandosi al leggero rollio di una nave ma purtroppo è una cosa aggiunge si ferma si gira verso la donna lo sguardo fermo deciso lei capisce è una cosa che non ho più il coraggio di raccontare a nessuno una cosa molto difficile da dire e soprattutto da spiegare giustificare anche concepire la donna ha un fremito che subito controlla come una cacciatrice trattiene il minimo ramocello sta immobile più che l'attesa nei suoi occhi sale il terrore la spaventevole possibilità che questa cosa indicibile inconcepibile non le venga detta che le labbra di mister silvera decidano infine di non lasciarla uscire poi avanza cauta nel fragilissimo silenzio accenna a voltarsi verso il salone come per guardare qualcuno ma non si volta e non l'ha detta nemmeno a chiede a voce bassissima mister silvera muove appena la testa da destra a sinistra no dice complice ma breve nemmeno a legge ora negli occhi della cacciatrice la certezza della cattura la decisione del balzo all'aperto fuori da ogni circospezione provi a dire a me allora lo supplica lei apertamente provi a spiegare a me tacchi e punte avanti e indietro mister silvera riprende ad ondolare se vuole dice sottovoce anche lui cominciando a spiegarle 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 Grazie a tutti.